Dal Vangelo secondo Matteo Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio gioco sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Il mio gioco, infatti, è dolce e il mio carico leggero. Bene fratelli, siamo in estate, fa caldo, vorremmo andare in vacanza, siamo in vacanza, i nostri ragazzi, i nostri figli desiderano scappare, desiderano una pausa, dallo studio, tutti noi forse sogniamo con le vacanze, sogniamo con un tempo di riposo. Ebbene, oggi il Signore ci dice che cosa sia il riposo, dove sia il vero riposo, dove noi possiamo scappare, veramente, rifugiarci, dove noi possiamo riposare, e non c'entra nulla, agosto, luglio, non c'entrano nulla le settimane bianche, il riposo autentico è con Lui, è caricando, prendendo il suo gioco sopra di noi. E questo lo possiamo fare in qualunque momento dell'anno, in qualunque situazione, anzi, proprio laddove, secondo il mondo, secondo la carne, secondo ciò che la carne esige da noi, secondo ciò che la carne ci dice, secondo ciò che la cultura, il mondo, ci suggerisce, ci impone molto spesso, proprio quello che è il contrario di ciò che la carne e il mondo, e ovviamente il demonio, ci dicono sia il riposo. Certo, non voglio dire che un tempo con la propria famiglia, un tempo di tranquillità, è ottimo, è stupendo, è anzi necessario, però spesso ciò non può accadere, perché mancano i soldi, perché mancano le possibilità, perché c'è una malattia, perché c'è una persona anziana in casa, perché sei una persona anziana, perché sei sola, perché sei solo, perché sei in ospedale, perché forse sei in missione, forse hai delle difficoltà oggettive e starai tutta l'estate a casa tua, al caldo o quello che sia, forse le vacanze non vanno come speri, non andranno come speri. Il punto è un altro, fratelli carissimi, che se Gesù ci parla di ristoro, ci parla di riposo, allora ci sta parlando anche di che cos'è che ci stanca, riposare da che, riposare perché, riposare come. Tutto questo ci illumina su che cosa sia ciò che ci fa stanchi, ciò che ci affatica e ci opprime. Allora, quello che ci affatica e ci opprime non è il lavoro, ciò che ci affatica e ci opprime non è il traffico, ciò che ci affatica e ci opprime, fratelli carissimi, non è il caldo o il freddo, non è la routine di tutti i giorni, è molto profondo ed è molto vero, fratelli, perché se no continuiamo a vivere presi all'accio, alla catena, come un cagnolino, dalla stuzia demoniaca, dai sofismi del demonio, da ciò che la pubblicità, perché guardate che marca qualcosa dentro di noi, guardiamo la televisione e paffete, 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 immagini di spiagge, immagini di birre gelate, immagini di gelati, immagini di montagne, immagini... E' questo che dentro di noi riteniamo sia la meta del nostro riposo, il luogo del nostro riposo, perché? Perché quello che ci stanca è esattamente la nostra storia, quello che ci stanca è la nostra vita, è la nostra vita di tutti i giorni, è la nostra vita durante undici mesi e mezzo all'anno, è quello che ci stanca, quello che ci stanca sono i sei giorni o i cinque giorni di lavoro, è la scuola, è l'ufficio, sono i colleghi, andiamo avanti, quello che ci stanca sono le persone che abbiamo accanto, quello che ci stanca poi alla fine, per quadrare il cerchio, quello che ci stanca è il nostro marito, nostra moglie, i nostri figli, i nostri genitori, per questo dobbiamo andare, per questi ragazzi vogliono andare in vacanza da soli, perché hanno bisogno, perché vogliono fare la loro indipendenza, con gli amici, con le amiche, perché loro devono, hanno diritto, che cosa? A non guardare più in faccia i genitori, ad avere un tempo in cui fare come uno vuole, dando libero sfogo alla carne, obbedendo alle esigenze della carne, quindi orari di sveglia, orari di sonno completamente sfalzati, mangiare, bere, fare tutte cose diverse, e questo dicono gli psicologi, questo dicono, devi staccare, devi prenderti un momento per te, devi resettare, tutte queste cose che si dicono, che sicuramente per quanto riguarda il fisico, certo se non è stanco, è stanco, è stanco perché ha lavorato, è stanco perché, ed è giusto, per questo il Signore ha pensato al Shabbat, al giorno del riposo, e per noi è la domenica, il giorno del Signore, dove non si fa nulla, dove Gesù Cristo ha compiuto per noi il vero riposo, perché? Perché ci dona la grazia di vivere completamente abbandonati alla Sua mano, completamente abbandonati alla Sua provvidenza, al Suo amore, sapendo che con Lui, in Lui e per Lui abbiamo un Padre che provvede a noi, ma il riposo, il riposo settimanale, la domenica, è una profezia, è un anticipo, è un assaggio di quello che sarà il riposo eterno. Ogni mattina noi entriamo nella giornata con il Salmo 94, il Salmo invitatorio, la prima preghiera che la Chiesa mette sulle labbra dei Suoi figli. Se oggi ascoltate la Sua voce, non indurite il vostro cuore. Come a Meriba, come nel giorno di massa, nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova, però avendo visto le mie opere, dice, per quarant'anni mi disgustai di quella generazione, e dissi, sono un popolo dal cuore traviato, non conoscono le mie vie, perciò ho giurato, nel mio sdegno non entreranno nel luogo del mio riposo. Vedete? Il riposo. Allora, quello che il Signore oggi ci invita e ci chiama conversione è entra nel riposo mio, entra nel mio riposo, entra in ciò che io ho preparato per te, il vero e autentico riposo. E il riposo da che cosa? Il riposo dal cuore indurito, dal cuore di pietra, perché la causa della nostra stanchezza, la causa della nostra oppressione, del nostro affaticamento, le parole che oggi usa il Signore, è il nostro cuore. Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. E' nel cuore che ci affatichiamo, fratelli. E' nel cuore che siamo oppressi. Parla tantissimo San Paolo, ma anche Gesù, della oppressione, di questo cuore oppresso, come se fosse un sasso pesantissimo sopra, cos'è che ci opprime? Le preoccupazioni della vita, gli affanni della vita, gli ingani del demonio. E' dal cuore che nascono i furti, e' dal cuore che nascono gli omicidi, e' dal cuore che nascono le parole menzognere, e' dal cuore che nasce l'ipocrisia, e' dal cuore che nascono le concupiscenze, l'avarizia, la menzogna. E' questo quello che ci affatica al lavoro E' questo quello che ci affatica a scuola E' questo quello che ci affatica in famiglia E' questo che ci affatica quando siamo soli Nella nostra solitudine Non è la solitudine che ci affatica E' ciò che dal nostro cuore esce nella solitudine E' ciò che dal nostro cuore esce Nei confronti di tua moglie, nei confronti di tuo marito Nei confronti dei tuoi genitori, nei confronti dei tuoi figli E non sono le vacanze Non è resettare, non è mettere una parentesi che guarirà il cuore, anzi, anzi, perché tutto quello che abbiamo nel cuore ce lo portiamo dietro, per questo non riposeremo nemmeno alla vista di una montagna, non riposeremo nemmeno su una spiaggia bellissima, meravigliosa, dei Caraibi, non riposeremo da nessuna parte. Perché Gesù dice troverete l'istoro per le vostre anime, allora cuore, anima, il nostro intimo profondo è lì, è lì che il demonio ci inganna ed è lì che ci affatichiamo. Per che cosa? Per giudicare, è una fatica enorme, per accalappiare l'altro, perché l'altro sia come noi vogliamo, o per piacere agli altri, ci affatichiamo tantissimo, ci affatichiamo per far valere le nostre ragioni, ci affatichiamo per farci giustizia, ci affatichiamo nell'indignazione, ci affatichiamo nella mormorazione. Questa parola, mormorare, come una pentola di fagioli che sta sempre blum, 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 questa è una fatica perché non riposa mai. Un cuore che trama costantemente, un cuore che sempre si difende, un cuore che è sempre sul chi va là, un cuore che pensa sempre come fregare l'altro, come accalappiare l'altro, come circuire l'altro, come sedurre l'altro, o come piacere all'altro. Come fare che l'altro si dia conto di te, come fare perché l'altro ti ami, come fare per essere importante per l'altro, come fare per riempire la solitudine, come fare per obviare ai fallimenti, per resistere. E' il cuore, è la nostra anima che è oppressa quando ci sediamo sull'anima, quando ci sediamo sulla nostra coscienza, sul nostro intimo, laddove decidiamo se fare o non fare la volontà di Dio. E' lì che ci affatichiamo perché nella nostra libertà, fratelli carissimi, noi scegliamo tutti cosa fare, cosa dire, cosa pensare. Abbiamo sempre davanti a noi queste due vie, il bene e il male, ce l'abbiamo davanti, ma se il demonio si mette lì e ti fa vedere il bene e il male, e il male bene, allora fai l'esperienza del figlio prodigo. Qual è stato l'esito del figlio prodigo? Che è andato a riposare, da suo padre, dalla sua casa, che è andato a cercare fortuna, che è andato a farsi la sua vita, perché quello in fondo è il riposo, in fondo è quello il desiderio del paradiso, il desiderio di farmi con le mie mani, di costruire con le mie mani un paradiso, un posto dove riposare, un posto dove essere, un posto dove essere amato, dove contare, dove valere, dove essere amato, dove essere rispettato. Qual è stato l'esito di questo? L'oppressione totale, la solitudine, la fame, il fallimento, la frustrazione. L'ho già detto altre volte, questa poesia, il sabato del villaggio, di Giacomo Leopardi, lo spiega perfettamente. Questo di sette è il più gradito giorno, pien di speme e di gioia, di man, tristezza e noia, arrecheranno l'ore, e al travaglio usato ciascuno in suo pensiero farà ritorno. E' così che noi viviamo, no? I nostri riposi, le nostre vacanze. Ma no, coraggio fratelli, perché oggi il Signore ci annuncia un'altra cosa, ci aiuta, ci consola, ci dice venite a me, vieni a me, vieni a me e ti mostrerò qual è il vero riposo, quali sono le vere vacanze. Vieni a me, che vuol dire venire a me? Chi va a lui? Quelli che sono affaticati e oppressi, fratelli, affaticati nel cuore, oppressi nell'anima, i peccatori. Sei affaticato, vero? Stai giudicando una persona, non la sopporti, vero? E non sopporti di non essere sopportato, non accetti di non essere accettato. Ogni cosa che quella persona fa, e può essere tuo marito, tua moglie, può essere chiunque, i tuoi genitori, tuo padre, tua madre, i tuoi fratelli, quel collega, la tua suocera, il cugino, non so, qualunque persona sia, no? Vicino di casa, non lo so, decidi tu. E' questo che ci opprime, il non poter amare, fratelli, il non poter entrare nella storia quotidiana, l'entrare con una difficoltà enorme, con uno sforzo sovrumano nell'ufficio, con quei colleghi. Si può il caldo, certamente, la situazione ambientale, la situazione economica, tutto, tutto, ci mostra la nostra infinita debolezza, la nostra incapacità, il nostro cuore che si affatica, la nostra anima che si opprime. Perché non siamo capaci di donarci, non siamo capaci di perdere la nostra vita, non possiamo, non possiamo. Per questo siamo affaticati e oppressi, per questo oggi Gesù viene a te e viene a me e dice, sei affaticato, sei oppresso, io lo so, lo so, conosco la tua vita, conosco ciò che ti sta facendo soffrire, conosco quello che ti sta inchiodando. Ecco il punto, fratelli, siamo inchiodati a una croce che non sopportiamo, ci sono dei chiodi che stanno perforando i nostri polsi e ci fanno un dolore, ma un dolore insopportabile, la fatica della croce. La fatica veramente sovraumana, una fatica che non possiamo portare, che non possiamo sopportare. Quell'atteggiamento, quel modo di pensare dell'altro, di tua moglie, di tuo marito, di tuo padre, è un chiodo che ti rende incapace di accettarlo, incapace di abbracciarlo. Vorresti abbracciarlo, ma non puoi abbracciarlo, sei lì inchiodato, questa schiavitua, al peccato, la paura di morire, la paura di sacrificarti, la paura di rispettare l'altro. Ti inchioda, attento, ci inchioda alle passioni, ci inchioda alla menzogna, ci inchioda all'ipocrisia e non possiamo muoverci. In testa abbiamo queste spine, queste spine che sono le preoccupazioni per i figli, per la nostra salute, per i soldi, per il lavoro. La preoccupazione per il futuro di tua figlia, del suo matrimonio, il matrimonio di tuo figlio. Guarda, sta nella droga, sta non so dove, guarda che non studia, guarda che non obbedisce, non va in chiesa, non gliene importa nulla di Gesù Cristo. Guarda, la preoccupazione per la casa, per le tasse, per le bollette che arrivano, si è rotto il frigorifero, è estate, si è rotto il frigorifero, non ho una lira, ho messo quei pochi euro che ho messo la caparra per andare quei sette giorni, otto giorni al mare. Non ho soldi, adesso sto col frigorifero rotto. Tutto questo ci inchioda. A che cosa, fratelli? Alla nostra impotenza, alla nostra incapacità. Ma quale incapacità di entrare lì? Di entrare lì? Per questo la croce, fratelli, è un luogo terribile di martirio, un luogo terribile di tortura, un luogo che non possiamo accettare, un luogo che ci obbliga alla nostra impotenza, ci mostra la nostra impotenza e scatena in noi una ribellione, una mormorazione terribile. Tutto questo ci stanca, tutto questo ci opprime. Perché abbiamo un cuore malato, perché il demonio ci ha ingannati, perché abbiamo creduto di essere Dio, perché abbiamo creduto di avere tutto tra le mani, di poter gestire le cose. Abbiamo creduto, ci siamo illusi che gli altri ci dovessero ritenere i migliori, ci dovessero ritenere un buon padre, una buona madre, un buon figlio, quanti figli. Ma io sono buono, perché non mi capiscono? Lì, dentro, nel profondo del cuore, la sottile menzogna del demonio. Bene, tutto questo, fratelli, è la nostra realtà. E oggi il Signore dice, venite a me. Perché dice venite a me? Come fa a dire venite a me? Che significa venite a me? Gesù lo può dire perché ha preso la tua stessa identica croce. E se noi guardiamo la croce, che cosa guardiamo? Che cosa vediamo? Vediamo un uomo distrutto, un uomo affaticato per averla portata, per essere stato fustigato, sputato, insultato per il processo. Vediamo un uomo oppresso dai chiodi, oppresso dalla corona di spine, oppresso dal carico di tutti i nostri peccati. E che cosa contempliamo guardando la croce? Due braccia distese, le stesse braccia nostre. Le stesse braccia nostre distese e inchiodate, le nostre stesse gambe distese su quella croce, i nostri stessi piedi inchiodati. Eppure, se guardiamo a Cristo, guardiamo un uomo che ha fatto di quella croce l'abbraccio per tutti noi. L'amore infinito di Dio brilla su quella croce. Allora vi invito oggi, fratelli, a guardare e a contemplare la scena della crocifissione. Gesù in mezzo a due ladroni. Uno alla sua destra e uno alla sua sinistra. Il buono e il cattivo, no? Secondo la tradizione, secondo il Vangelo di Luca. Perché la scena della crocifissione è una catechesi meravigliosa sul riposo, sulle vacanze, su questo tempo, sulla nostra vita. Allora c'è un uomo che è crocifisso, che sei tu e sono io, e che si dimena, e che bestemmia, e che mormora, e che si ribella. E che in Gesù Cristo, a fianco a lui, crocifisso, non vede altro che il suo stesso fallimento. e lo opprime ancora di più, e lo istiga, e lo calunnia, esige da lui che cosa? Fai qualcosa, fai un miracolo, ma come? Tu tanto buono, tanto profeta, tanto messia, tanto Chirios, tanto non so che, hai salvato tanta gente, salvaci, ma che fai? Non è questo il nostro modo di stare sulla croce, che ci affatica? Immaginate, la croce era una tortura terribile, perché ogni singolo movimento provocava dolori lancinanti. Non potevi muoverti, perché i chiodi premevano su dei nervi, che ti trasmettevano immediatamente il dolore al centro della testa. Era una fatica terribile, sta parlando di questo il Signore, eh? Allora, dovresti stare fermo per soffrire un po' di meno, sulla croce dovresti stare fermo, fermo, immobile, ma non puoi, perché devi respirare. Per cui, al muoverti, per cercare di attingere un po' d'aria, comincia a muoverti ed erano dolori terrificanti. Immagina una persona che si rivincola, una persona che vuole schiodarsi, vuole togliersi da lì, che non accetta quella situazione. È quello che viviamo noi. È da questo che viene la nostra sofferenza, è da questo che viene il nostro dolore profondo, è da qui che viene la nostra spossatezza, la nostra stanchezza e l'oppressione. Lo descrive benissimo, il Signore, con pochissime parole, sei affaticato e oppresso perché ti stai muovendo sulla croce, perché ti stai dimenando sulla croce, perché ti stai ribellando alla croce, perché vuoi con le tue forze toglierti da lì. Mentre quella è la tua realtà, mentre lì sei inchiodato a causa dei tuoi peccati. Cioè quella croce, quella croce, attento, è l'esito dei tuoi peccati. Com'è? Allora io fatico per i miei peccati? Sono affaticato a causa dei miei peccati? Sono oppresso a causa dei miei peccati? Esattamente. Esattamente. Come puoi salvarti? Come puoi uscire da questa situazione veramente? Divincolandoti? No. Ribellandoti? No. Come puoi trovare riposo? Come puoi trovare riposo una persona che è crocifissa? A causa dei suoi peccati? A causa dei peccati degli altri? Indubbiamente. Quando la storia ti crocifigge, come fai a trovare riposo? O meglio, è possibile trovare riposo? È sulla croce il riposo? Gesù dice, non ho dove reclinare il capo, ho reclinato il capo solo sulla croce. Cioè il mio riposo vero e autentico è la croce. E la croce è la volontà di Dio. Allora scandalizzati pure, scandalizziamoci pure. Quella croce è la volontà di Dio, certamente. Perché ai peccati c'è una conseguenza. Per i peccati nostri, per i peccati degli altri, c'è una conseguenza. Molte volte soffriamo ingiustamente, certamente. C'è la sofferenza innocente, ma certo. Ma innocente perché viviamo in un mondo di peccato. Viviamo in un ambiente di peccato. Il demonio domina su questo mondo. Per questo, a causa dei nostri peccati, a causa degli altri, sicuramente, che ci feriscono, che ci fanno del male, sicuramente, siamo crocifissi. Questa è la nostra realtà, fratelli. Hai voglia tu. Più scappi, più soffri. Più ti dimeni, più soffri. Più fatica, più sofferenza, più oppressione. Ma quella croce, Gesù Cristo l'ha resa gloriosa. Cioè, ha reso la croce il luogo del riposo. Ha reso la croce un anticipo del paradiso. Ha reso la croce la più bella spiaggia delle Seychelles, delle Maldive. Ha reso la croce la più bella vetta delle Dolomiti. Quei prati bellissimi che sono di fronte alle Trecime. Un rifugio dove mangi la polenta. E con le salsicce. Un sentiero in mezzo al bosco. O che sia, una città d'arte. O dove tu vuoi riposare. O il tuo sofà, davanti alla tua televisione con l'aria condizionata. O il bar dove ti prendi uno sprizzo, non so che cosa. Gesù Cristo ha reso la croce il luogo più bello della Terra. Come? E questa è la parola di oggi, fratelli. Il Signore sta dicendo esattamente questo. Sei affaticato ed oppresso? Sì. Sì. A causa dei miei peccati? Sì. A causa dei peccati degli altri? Sì. Ma non perché gli altri ti abbiano crocifisso. Cioè, gli altri certamente ti crocifiggono. Certo che il giudizio di tua moglie ti ferisce e ti inchioda. Certo che la malattia di tuo figlio ti fa male. Certo che il peccato di tuo figlio arriva a te. Certamente. Certo che sei angustiato. Tutto quello che ti pare. È verissimo. I soldi, il lavoro. È tutto vero. Ci crocifigge. Ma dal nostro cuore esce il ribellione. Per questo quel luogo, quel luogo che è la storia, perché esiste un peccato originale e noi viviamo dentro questo origine di male e camminiamo lì. Allora, come possiamo vivere? Venite a me e prendete il gioco mio sopra di voi e imparate da me, che sono mite ed umile di cuore. E troverete ristoro per le vostre anime. Perché il mio gioco è dolce e il mio carico è leggero, la croce di Gesù Cristo è dolce e il peso, perché è un peso, è leggero. Si fa leggero, diventa leggero. Cioè quello che per tutti è orrore, quello che le ideologie vogliono combattere, che tutte le rivoluzioni, i fascismi, i comunismi, le politiche, le filosofie, le musiche, i film, tutto quello che... Le novelle, i romanzi, tutto quello che il mondo vuole distruggere, perché il mondo è nemico di quella croce, è in virtù di Gesù Cristo, è per mezzo di Gesù Cristo il luogo più bello, più dolce e più leggero della terra. Quella relazione difficile con quella persona, con quelle persone, per la quale tu sei insopportabile a loro e loro sono insopportabili a te, è il luogo più bello della terra. E non perché oggi, domani, tra un mese cambi, no, così com'è, oggi è il luogo più bello del mondo, è il luogo del tuo riposo. Non indurire il cuore, non indurire il cuore, impara da Gesù, prendi su di te il suo gioco, perché lui ha preso su di sé il tuo gioco. Allora appare qui l'altro ladrone, Dismas, o Disma, secondo la tradizione. Quest'uomo sulla croce ha imparato da Gesù Cristo, che cosa ha imparato? L'umiltà e l'amitezza di cuore. Ha capito una cosa, ha compreso, cioè ha preso con sé la realtà. Quale? Quale realtà? Quella che aveva davanti ai suoi occhi. Era, vedeva Gesù Cristo, vedeva Gesù Cristo crocifisso. E come diceva San Giovanni Crisostomo, lo vedi crocifisso e lo chiami re. Credi che colui che sopporta scherno e sofferenza giungerà alla gloria divina. Cioè, questo uomo ha visto che Gesù Cristo era crocifisso lì per lui. Lui non ha fatto nulla, dice, non ha fatto nulla di male. Noi sì, io sì, ma lui è condannato alla stessa mia pena. Queste parole riconoscono la realtà. Queste parole rivelano l'umiltà del cuore. Rivelano che quest'uomo aveva terminato il suo cammino di fede là dentro, nel punto estremo dei suoi peccati. Cioè, nella conseguenza estrema, decisiva, finale, della sua vita di ladrocini, di menzogne. Era un malfattore. Perché quest'uomo lì, guardando Cristo, fissando Cristo, contemplando Cristo, aveva compreso che Gesù Cristo aveva fatto l'impossibile. lo aveva amato, lo stava amando in quel momento, perché aveva preso il suo gioco. E prendendo il suo gioco, cioè prendendo la sua stessa croce, e diventando la croce di Isma, la croce di Cristo, stava facendo sì che la croce di Cristo diventasse la croce di Isma. Cioè, questo scambio, meraviglioso, compiva il Vangelo che abbiamo proclamato oggi. Prendete il mio gioco sopra di voi, perché io ho preso il vostro gioco sopra di me, e l'ho reso mio, l'ho fatto mio. Per questo tu lo puoi prendere. Questo è il primo passo, fratelli. Riconoscere l'amore di Dio nella tua vita. Che Gesù Cristo ha dato la vita per te. Ascoltare la buona notizia. E non indurire il cuore. Lasciarti amare. Lasciarti percuotere il petto. Lasciarti trafiggere l'anima, laddove tu sei più affeticato. Lasciarti trafiggere il cuore, laddove tu sei più appesantito. Laddove sono depositati giorni, mesi, anni di giudizi, di menzogne, di peccati. Lasciarti trafiggere da questa notizia. Dio, per prenderti, è sceso da dove tu sei. Ha preso la tua stessa storia. Si è fatto peccato. Si è lasciato inchiodare sulla stessa tua croce. Quella croce che oggi ti distrugge. Quella croce che fino ad oggi ti ha distrutto. Che hai interpretato come una maledizione. Come una sfiga. Come un castigo di Dio. Come una ingiustizia di Dio. E ingiustizia degli uomini. Quella sulla quale ti sei divincolato per soffrire di più. L'ha presa Gesù Cristo. Guardala oggi, in questo giorno caldo di luglio. Guardala. Fissa. Fissa la sua croce. E guarda questi due ladroni. E guarda questo che ha la sua destra. Chi sei tu? Chi vuoi essere tu oggi? Vuoi continuare ad essere questo ladrone alla sinistra? O vuoi essere dismas? Lo puoi fare. Lo puoi fare. Questa è la libertà. Che tutti noi abbiamo. Che io ho. Questa è la conversione. Questa è la porta. Che ci conduce al riposo. Puoi indurire il cuore. E continuare a divincolarti. A dimenarti. A cercare di sfuggire dalla tua vita. Dalla tua storia. Da ciò che ti sta umiliando. Puoi farlo. Sapete? Vedete queste icone? In tutte le icone della crocifissione. Diciamo la maggior parte delle icone della crocifissione. Icone orientali ma anche nei dipinti occidentali. Sulla testa, sul capo, dei due ladroni ci sono. Su quello alla sinistra c'è un demonio sempre. C'è una figura cattiva. Una figura inquietante. Che gli strappa l'anima. Che prende l'anima e la porta con sé nell'inferno. Sull'altro, su Disma, sul buon ladrone, c'è un angelo. Che prende la sua anima e la porta al cielo. Cosa vuoi? Questa immagine fortissima del film di Mel Gibson. Oggi è davanti a noi questa possibilità. Ogni giorno è davanti a noi questa possibilità. Possiamo oggi riconoscere i nostri peccati. Riconoscere ciò che c'è nel nostro cuore. Riconoscerci affaticati e oppressi e andare a Gesù. Imparare da Lui. Andare a Gesù dicendo Signore, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Abbi pietà di me. Riconoscere che Lui è re. Lì sulla croce è re. E che se il suo gioco è il mio gioco vuol dire che io posso essere re con Lui. Cioè io posso essere trascinato, portato sulle sue spalle, nel suo stesso regno. Che è il riposo, che è la terra promessa. Che è il riposo nel quale sono chiamato ad entrare ogni giorno. Per questo la croce coincide con il riposo. La croce coincide con la porta sul riposo. La porta dischiusa sul riposo. Il vero riposo. Io posso reclinare il capo. Veramente nel riposo. Sulla croce. Diceva il terzo salmo dell'ufficio delle letture di oggi. Volgiti Signore. Fino a quando muoviti a pietà dei tuoi servi. Saziaci al mattino con la tua grazia. Esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. Prendici la gioia per i giorni di afflizione. Per gli anni in cui abbiamo visto la sventura. Sia su di noi la tua bontà, Signore, nostro Dio. Volgiti a noi. Allora guardate bene, fissate bene le icone, fissate bene le immagini della crocifissione. Vedete che Gesù reclina il capo sulla destra. Sulla destra. Verso il ladrone pentito. Verso il buon ladrone. Verso te e verso me oggi. È lì che lui posa il suo sguardo. Sulle tue sofferenze, sulle tue angosce, sulla tua oppressione, sulla tua fatica, sulla tua sofferenza. Oggi. 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 Se oggi ascoltate la sua voce, oggi sarai con me nel paradiso. Oggi si è compiuta questa parola che avete udito con i vostri orecchi, dice il Signore nella sinagoga di Nazareth. Oggi è nato per voi un salvatore. Oggi in questo momento preciso. Oggi perché la parola è vera, è autentica, è attuale e si compie oggi. Oggi sarai con me nel paradiso. Oggi la salvezza è entrata in questa casa, dice il Signore a Zaccheo. Oggi. Alla finché dura quest'oggi, dice la lettera agli ebrei, non induriamo il cuore. Abbiamo un oggi che è questo momento, che è questo istante, che è questa storia, che è questo che io e te stiamo vivendo, che è questa croce. Oggi abbiamo quest'oggi per convertirci, per alzare lo sguardo e dire io, io me lo merito, cioè è giusto quello che sto vivendo, è appropriato, è adeguato a me. Questa vita che sto vivendo, questa storia esattamente così com'è, questa croce è adeguata a me, perché Gesù l'ha resa adeguata a lui. Il gioco, sapete, no? Il gioco che portavano quando non c'erano ancora le macchine, i trattori, le mucche, gli asini, i cavalli, per alare i campi. Questo gioco non può essere diseguale, perché se è diseguale allora si inciampa. allora Gesù Cristo ha reso la tua croce, la tua storia, ciò che ti inchioda oggi lo ha reso uguale a lui, lo ha reso per cui tu e Gesù l'ho portato assieme. Tu lo puoi portare perché lui lo porta. Oggi puoi entrare nel riposo, nella vera vacanza, in ufficio, sul letto d'ospedale, solo, con l'artrosi, malato terminale, abbandonato dal marito, abbandonato dal marito, abbandonato dalla moglie, con i figli, qualsiasi situazione, quello che sta vivendo tuo figlio lo sta conducendo a questo oggi, è già parte di questo oggi, fratelli carissimi. Puoi contemplare Cristo nell'iconografia orientale è meraviglioso perché nell'iconografia orientale del giudizio finale c'è normalmente in basso a sinistra anche un pochino più su ma c'è la porta del cielo, la porta del paradiso, ci sono tutti i patriarchi in fila, tutti i santi dell'Antico Testamento che stanno per entrare, al di là della porta c'è Abramo con tutti i suoi figli, il seno di Abramo, la Vergine Maria alle volte è un cerchio, un tondo in margine della vita eterna dove c'è alle volte la Trinità, alle volte i tre di mambre apparsi ad Abramo alle volte c'è la Vergine Maria sempre su questa porta c'è la Vergine Maria come abbiamo visto ieri nel dipinto di Caravaggio sempre c'è la porta e chi è il primo che entra? Chi è il primo che ha abbarcato la porta portando una croce come fosse un pastorale di Vescovile? Chi è? Il buon ladrone alle volte è messo lì in questo tondo in questo cerchio è messo lì proprio come se fosse entrato proprio capito all'ultimo momento proprio come se fosse entrato di soppiatto come se fosse entrato proprio boom ah ce l'ho fatta lì proprio adagiato su questo cerchio sulla linea esterna ma è dentro è dentro è nel riposo è nel paradiso il primo santo l'unico del quale è certificato da Gesù Cristo in persona l'entrata nel paradiso e dice sei andato con me sarai con me ah signore Gesù attenti la croce è il luogo dell'intimità il gioco è il luogo dell'intimità profonda con Gesù Cristo quello che io penso che invece mi fa lontano da lui quello che dove io sto mormorando contro lui dove io mi sento abbandonato Gesù papà abbà Dio mio Elohim perché mi hai abbandonato no quello è il luogo dell'intimità più profonda di Dio con il suo figlio perché è il compimento estremo laddove è più lontano dal padre è più vicino al padre anzi è più nel cuore del padre è più nel centro del cuore del padre perché sta compiendo la sua opera così allo stesso modo ciò che fino ad oggi ci sta allontanando ci ha allontanato da Gesù Cristo facendo della croce una tortura quello può diventare si può trasformare nel luogo dell'intimità più profonda con Cristo lì sulla croce dove sei solissimo solo con la tua debolezza solo con i tuoi fallimenti solo con la tua sofferenza puoi dire Gesù Gesù Joshua Gesù Joshua Gesù fratello mio signore mio Kyrgios mio come come Tisma signore mio abbi pietà di me portami con te fammi entrare nel tuo regno io merito quello che ho vissuto lo accetto e Gesù che cosa dice oggi sarai con me nel paradiso cioè entra con lui entra con Cristo entra con lo sposo nel giardino entra con lo sposo nella stanza nuziale entra con lo sposo nel suo riposo nel riposo dalle sue opere cioè dall'opera di Dio l'opera di Dio è Cristo l'opera di Dio è la tua salvezza l'opera di Dio è il paradiso per te perché tu possa goderne già qui le primizie per questo oggi vuol dire che tu oggi puoi essere qui qui e in paradiso oggi puoi cominciare a gustare sulla croce le delizie del paradiso sì offrendo dando la tua vita amando amando dentro quella malattia amando in quella situazione amando cioè offrendo non puoi amare fisicamente quella persona vedi che non la sopporti amala come? offrendo questa impotenza a Cristo non puoi fare altro non c'è modo non c'è tu non puoi hai capito che non puoi va bene accettalo e dasselo e daglielo 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 consegnaglielo eccomi oggi ti prego ricordati di me ricordati di me quando sarai nel tuo regno cioè quando hai vinto la morte quando hai vinto questo che mi sta tu che oggi hai vinto che stai vincendo per me questa barriera che mi separa dall'altro ricordati di me cioè portami con te e dall'altro portami con te nel paradiso io non posso offri la tua impotenza offri la tua la tua debolezza offri la tua vita a Cristo questo è amore questo si trasforma in amore per questo quelle braccia distese che ti opprimono ti affaticano diventano un luogo di delizia te la ristoro per la tua anima fratello carissimo Sant'Agostino può parlare anche di te come parlava del ladrone dice coloro che hanno visto Cristo risuscitare dai morti i suoi apostoli hanno vacillato questo ladrone invece ha creduto in colui che vedeva appeso al legno accanto a sé portando il suo stesso gioco nell'istante stesso in cui i primi hanno vacillato egli ha creduto che bel frutto ha colto questo bandito sul legno secco lo stesso frutto che puoi raccogliere tu sul legno secco della tua vita della tua storia di quello che oggi sembra senza frutto sembra disperato fonte di disperazione fonte di frustrazione allora io ti ripeto le parole di Gesù in verità in verità cioè è proprio così è certissimo è verissimo oggi sarai con me nel paradiso allora facciamo come il buon ladrone del dipinto di Tiziano che alza quasi il braccio quasi per prendere per prendere Cristo dove lo possiamo prendere Cristo dove possiamo imparare da Cristo era un ladrone era un ladrone come tu e come me abbiamo rubato dignità agli altri abbiamo rubato soldi abbiamo rubato tempo abbiamo rubato addio le persone vero? sì ebbene possiamo imparare da colui il quale attenzione Sant'Ambrogio ritiene il vero buon ladrone Sant'Ambrogio appunto diceva dopo aver stigmatizzato la crudeltà di crocifiggere come un malfattore il redentore di tutti nel mistero cioè nell'interpretazione più profonda egli Gesù è un eccellente bonus latro perché ha teso un agguato al diavolo e gli ha portato via gli ha rubato la sua roba tu ed io come ha fatto con Disma allora possiamo imparare da Gesù come si fa dicono alcuni padri anche alcuni santi no? Santa Teresa di Lisie bellissima sua piccola via è rubare il cielo aveva rubato tutta la vita bene all'ultimo istante ha rubato il cielo quest'uomo tu oggi puoi rubare il cielo perché Cristo ti ha rubato ti ha strappato al demonio allora questa arte è di trasformare come sarete pescatori di uomini sarete ladri di paradiso si potrebbe dire allora questo si impara nella chiesa in un manoscritto ebraico scoperto nel 1898 al Cairo in una sinagoga del Cairo dove venivano sepolti i manoscritti i logori contenenti le sacre scritture è stato trovato un frammento e dice così attenzione venite a me voi che siete senza istruzione prendete dimora nella mia casa di studio la Beit Midrash quanto tempo volete rimanere privi di queste cose mentre la vostra anima ne è tanto assetata ho aperto la bocca e ho parlato della sapienza acquistatela senza denaro sottoponete il collo al suo gioco e permettete alla vostra anima di portare il suo carico essa è vicina a quelli che la cercano e la persona che dà la sua anima la trova vedere con gli occhi che poco mi fatica ma ho perseverato fino a quando non l'ho trovata allora già già Israele nei suoi Targum nei suoi Midrash parlava di questo di quello che ha parlato Gesù la legge perché alcuni interpretano che questo affaticamento questa oppressione è dalla legge cioè dal rigore legalistico e precettistico da parte dei leggisti dei farisei che opprimevano il popolo per cui la legge era diventata una oppressione come per noi perché non possiamo compierla perché non possiamo amare non possiamo compiere la legge che è amerai il tuo Dio come l'unico con tutto te stesso e il prossimo come te stesso allora siamo oppressi non possiamo abbiamo bisogno di una casa di studio e la parola imparare vuol dire proprio studiare in greco è la parola originale mafete significa proprio studiare imparare allora c'è una casa c'è un bet midrash c'è una yeshiva per te e per me una casa di studio che è la nostra comunità cristiana che è la chiesa dove possiamo imparare ad aprire gli occhi su Gesù Cristo dove possiamo sperimentare che Gesù Cristo veramente ha preso il nostro gioco che veramente Gesù Cristo ci ha amato una, due, tre quattro, cento duecento trecento mila volte che sempre ha preso i suoi chiodi i miei chiodi li ha presi su di sé che ha perdonato i miei peccati il perdono dei peccati questo lo posso imparare nella chiesa lo posso studiare nella chiesa perché lì la parola mi illumina i sacramenti compiono ciò che la parola illumina cioè realizzano questo Vangelo nella mia vita i sacramenti la confessione l'eucarestia lì sono unito al suo gioco lì sperimento che Lui ha preso la mia vita ha preso i miei peccati e mi ha salvato e li ha perdonati li ha distrutti ed è risorto al cielo e mi ha portato con Lui io posso sperimentare questo quindi posso imparare ad aprire gli occhi sulla mia croce per guardare e fissare Cristo e lì nella chiesa attraverso la vita con i fratelli attraverso la predicazione attraverso la comunione attraverso il miracolo dell'amore di Dio che si compie nella sua chiesa prendere su di noi il gioco della Torah che è stato che è leggero perché l'ha compiuto Cristo e l'ha compiuto sulla croce perché pieno compimento della legge della Torah è l'amore prendere la storia che Dio mi dà su di me dove sperimentare che Cristo la porta con me basta basta già di moralisti basta già di questi scrivi e farisei che si seguono e pesano e caricano pesi moralismi sui figli genitori preti basta basta Antonello basta basta impariamo da Mosè non da quelli che si sono seduti sulla sua cattera la cattera di Mosè dove lui stesso con la sua esperienza ci insegna lui è l'uomo più umile della terra dice la scrittura perché aveva conosciuto se stesso era un balbuziente era un impetuoso era un assassino ebbene Dio ha scelto lui il più povero perché sa che la vera lotta non è contro le creature di sangue non è per dimenarsi sulla croce ma per accettare la croce quindi la vera lotta è contro il demonio e questo lo possiamo imparare sulla cattera di Mosè che è la cattera di Cristo che è la croce quella che oggi ti umilia e fa scappare il demonio e ti tiene inchiodato insieme al tuo sposo insieme al nostro Signore Gesù Cristo in questo letto d'amore dove lui ci sposa ogni giorno per farci assaporare le delizie della sua intimità le delizie del suo amore il vero riposo la vera vacanza buona giornata portando con Cristo lo stesso gioco è arare è arare questo mondo arare la nostra famiglia arare il nostro posto di lavoro con la croce per mostrare a tutti qual è il vero riposo che esiste il paradiso e che in noi in noi si compie ciò che Dio annuncia a tutti gli uomini coraggio coraggio è finita la vostra schiavitù coraggio esiste il riposo esiste il cielo esiste il paradiso esiste una ricompensa esiste un destino buono bello e santo per tutti già oggi oggi che portiamo il gioco oggi che ariamo oggi che ariamo la terra secca e dura oggi che ci doniamo insieme a Cristo grazie a tutti grazie a tutti